Per me è una gioia enorme stare tra di voi per l'inaugurazione dell'anno accademico alla sede romana dell'Università del Sacro Cuore. Un'università si rinnova ogni anno, gli anni passano ma un'università non invecchia perché è chiamata a essere giovane. Anche un'università secolare come ormai è la Cattolica del Sacro Cuore è chiamata veramente a fare i suoi, i sogni di quelli che entrano in università per la prima volta questo anno. Vi è questa fedeltà alla capacità di maturare nuove visioni, di ricercare una verità con apertura di cuore e questo impegno nelle grandi domande dell'esistenza, non soltanto nelle risposte immediate che fanno grande un'università. Un'università è un laboratorio, ci sono tante scienze, tante tecnologie, ma direi è soprattutto un laboratorio di umanità che insegna, come Gesù dice nel Vangelo, a vedere lontano, visioni ampie, incentrate nella persona umana e nel grande ethos che è la verità della vita, la dimensione della trascendenza, l'impegno di carità, di solidarietà e il desiderio di costruire sempre un mondo migliore. Con questo spirito penso che ogni anno accademico è veramente una bella, una bellissima opportunità per ricordare quella cosa grande, quello sogno grande che una università è.